Una processione molto sentita quella svoltasi domenica pomeriggio in onore di San Luca che ha così concluso i festeggiamenti per il santo evangelista organizzati dalla parrocchia a lui dedicata e guidata da padre Alfonso Cammarata. Un grande momento di devozione da parte dei fedeli che hanno preso parte alla celebrazione religiosa e che hanno portato a spalla per le vie del quartiere il simulacro del santo medico di professione nato da una famiglia pagana che poi si convertì alla fede in Cristo. E oggi siamo qui proprio per questo momento di preghiera itinerante questo pellegrinaggio che vogliamo fare insieme al nostro santo e al nostro San Luca presi quasi quasi idealmente per mano perché i santi ci indicano sempre il cielo e vogliamo veramente essere diffusori di speranza come il vicario generale l'altro giorno ci ha augurato di diffondere sempre più la gioia, la bellezza di Dio e la speranza e lo vogliamo comunicare al quartiere e anche di riflessa tutta quanta la città ecco che la tenerezza, l'amore e la speranza del Signore regnino sempre nei nostri cuori. Festeggiamenti che hanno preso il via lo scorso 12 ottobre che hanno così visto un ricco programma di appuntamenti religiosi e non solo molto apprezzati dai nisseni. Ogni anno sono venuto perché mi piace una precessione ben organizzata dal parroco Padre Alfonso è un bravo ragazzo, io lo dico bravo ragazzo perché nei miei confronti giustamente è un bravo ragazzo però vi posso dire una cosa che tramite lui e tramite i processori che ci sono stati prima di lui il quartiere San Luca si è rinnovato non grazie all'amministrazione ma grazie agli abitanti perché sanno trattare bene innanzitutto gli ospiti che vengono di fuori e anche quelli che veniamo di proposito. Per me questo quartiere è rinato perché da tanto tempo da quanto è che c'è appunto Padre Alfonso e tutte le persone sono ritornate di nuovo a partecipare in questa parrocchia che ancora è piccolina ma speriamo che fra poco diventerà una grande chiesa ed è stata per me da quanto è che appunto hanno fatto pure la statua da tre anni quindi per me è stata una bella idea, una bella cosa proprio per il quartiere. È una processione in cui partecipo ogni anno e porto pure persone disabili a partecipare a questa processione perché appunto è bella perché appartiene al nostro quartiere oltre al mio che ci abito ma per tutta la cittadinanza di Caltanissetta. Sembra una bella iniziativa ma già da molti anni i parrocci che ci sono stati e sono sempre diciamo prodigati poi in particolar modo Padre Alfonso diciamo che è un parrocco giovane che tiene unito magari il gruppo quindi sembra un'iniziativa buona.